È un luogo che sarà anche un contenitore importante in funzione di peso recapitale della cultura, quindi non soltanto per iniziative e eventi sportivi, ma anche per spettacoli, momenti culturali, così come abbiamo sviluppato e condiviso anche con Corroff stesso, ad esempio. Un cantiere da 3 milioni e mezzo di euro che è ripartito la scorsa settimana con un nuovo appalto aggiudicato ad Unati, un'associazione temporale di imprese composta da tre dite del territorio, tutte della provincia di Pesaro Urbino, su cui c'è grande attenzione da parte dell'amministrazione, tant'è che la stessa direzione lavori in questa prima fase è assegnata al dirigente del servizio per le pubbliche che ci vede in prima linea per concludere un intervento importante, come dicevo, per la città, ma anche per portarsi dietro anche quel rilancio di tutta quella zona che è un'area di collegamento tra il centro storico e il mare e che quindi poi si porterà dietro anche un momento di motore, di sviluppo economico di una zona importante per la città.